buongiorno io sono augusto galuso e io sono mauro casadei ciao a tutti parliamo oggi del libro completo delle aperture di claudio pantaleoni un must per chi vuole giocare a scacchi per chi vuole iniziale per chi vuole conoscere approfonditamente un po tutte le aperture certo allora lo studio dell'apertura spesso non è chiaro per molti giocatori quindi diciamo velocemente che tipi di libri sulle aperture esistono e che tipo di libro all'interno di questi è questo qua il libro di claudio allora il libro di apertura possono essere o delle monografie ogni singolo libro tratta di un'apertura o una difesa specifica questo è di solito adatto agli agonisti o comunque chi vuole intraprendere la strada dell'agonismo poi abbiamo i libri di repertorio i libri di repertoria sono se io gioco per esempio il bianco la partita di re che può essere e4 allora se io gioco e4 il libro di repertorio mi suggerirà una variante per giocare contro tutte le possibili difese del nero per esempio cosa gioco contro c5 cosa gioco contro e5 cosa gioco contro e6 cosa gioco contro d6 cosa gioco contro cavallo f6 eccetera eccetera e questo è un libro di repertorio anche questo è adatto a dei giocatori che devono fare competizioni esiste tutto il resto tutto il resto di solito sono dei libri tipo questo che cercano di spiegare un po tutte le aperture questi libri so che valenza hanno la prima valenza che hanno è un libro di consultazione libro di consultazione vuol dire io gioco al circolo oppure gioco su internet a un certo punto l'avversario mi fa una mossa che mi sembra strana perché io non l'ho mai vista finisce la partita andiamo un po a vedere cosa devo giocare o meglio tutte le possibilità che ho per affrontare questa questa apertura e di tutte quelle possibilità io sceglierò quella che mi piace di più l'altro modo è io voglio cominciare a prepararmi il mio repertorio d'apertura il mio repertorio d'apertura vuol dire che non è che leggo un libro che me le suggerisce sono io che voglio scegliermi cosa giocare contro la siciliana cosa giocare contro la francese eccetera eccetera e da che cosa scelgo ho bisogno di un campionario di una vetrina quindi io apro vado a vedere per esempio contro la francese qui andiamo alla francese difesa francese all'inizio c'è un'introduzione storica poi dopo vengono spiegate le varie possibilità a disposizione del bianco per ciascuna di queste chiaramente ci saranno delle contropossibilità a disposizione del nero però io a fronte di questa panoramica sono in grado di scegliere un'apertura o una variante meglio che sarà quella che mi sembra che mi piaccia di più da cosa lo capisco se mi piace o meno lo capisco dal fatto che mi vengono spiegate anche le idee qui vediamo che ogni quasi in molti diagrammi sono indicate con delle frecce o con un colore delle case importanti che rappresentano l'essenza gli obiettivi principali da raggiungere con un certo pezzo o con alcuni pezzi da parte del bianco o da parte del nero l'altra cosa interessante è che comunque ci sono oltre alla spiegazione delle mosse oltre alla spiegazione delle idee ci sono anche delle partite complete tratte sia dalle partite classiche del secolo scorso ma anche contemporanee no poi un'altra cosa importante magari ne vuoi parlare tu augusto è l'introduzione che rappresenta una usile molto importante qui claudio ha fatto veramente un grande lavoro perché naturalmente non è che si limita a snocciolare varianti o di aperture perché uno se le impari a memoria ma lui spiega c'è proprio un sistema di spiegazione delle varie aperture l'apertura sia che cosa fare col nero qual è il compito del bianco non che esista un dogma assoluto però naturalmente lui fa una mini storia di quelle che possono essere le varianti quindi ci dice a che cosa deve mirare il nero o a che cosa deve mirare il bianco e quali aperture possono essere più adatte per un gioco posizionale piuttosto che per un gioco tattico e aperto quindi diciamo che il lettore che si legge questa una cinquantina di pagine fra l'altro una bella corposa cioè non è che sia quanta pagine e il lettore che le legge con attenzione può imparare i principi i criteri generali con cui direi quasi tutti i giocatori scelgono dell'apertura ogni giocatore ha un suo carattere e ha delle qualità diverse quindi io probabilmente sceglierò delle aperture diverse da quelle che gioca che sceglie augusto perché abbiamo due persone stili personalità e anche abilità diverse però una volta che uno impara a conoscere se stesso e una volta che uno impara a capire che certe aperture sono con certe aperture si studia un po di meno si rinuncia un po di vantaggio con altre aperture invece è possibile attaccare fin da subito ma richiedono uno studio approfondimento certe aperture portano ad una ad un corpo corpo immediato altre aperture invece portano a posizioni dove ci vuole pazienza e una volta che uno ha capito anche che non esiste il santo graal delle aperture ma gli scacchi io dico sempre sono il gioco della coperta corta se scegli qualcosa devi rinunciare a qualcos'altro una volta che hai capito cosa cerchi e a cosa sei disposto a rinunciare un manualetto del genere perché questo è un manualetto di 50 pagine per imparare a scegliere le aperture avrai molti ma molti più strumenti per scegliere indipendentemente indipendentemente la tua strada delle aperture ma ti faccio una domanda mauro qui io vedo che alla fine c'è un riepilogo con un decalogo ma non è un decalogo perché sono 33 punti come si può chiamare un decalogo di 33 punti mauro dica 33 esattamente comunque a parte gli scherzi effettivamente qui claudio da dei dei punti di riferimento e dei consigli fondamentali per poter conoscere per bene e per poter usare anche questo strumento che poi è uno strumento che dura per tutta per tutta la vita praticamente perché poi uno fa riferimento a questo e poi eventualmente si andrà a comprare la monografia specifica sulla variante o sull'apertura che più va a giocare però comunque qui sarà sempre darà sempre un'occhiatina io dico sempre a chi viene a scegliere un libro sull'apertura se devi preparare un esame di chimica non lo studierai sull'enciclopedia ma prenderai un libro per preparare l'esame di chimica ma se invece devi capire le caratteristiche di un composto specifico chimico cosa ti serve eccetera eccetera allora usi uno strumento da consultazione che è una specie di enciclopedia questo libro se usato nel modo corretto ci permetterà sia di imparare a mettere a punto un metodo per studiare sia di andare a consultare le aperture specifiche ed è un libro che adatto a quale giocatore adatto si va dall'inclassificato puro perché visto che ci sono le idee spiegate uno che lo legge con attenzione trova trova qualcosa ma può arrivare anche secondo me fino a prima nazionale ma per molte cose le cose sì per molte cose sì perché comunque le varianti che ci sono dentro sono varianti tra l'altro questa è anche la nuova edizione aggiornata e quindi tiene punto anche ovviamente delle evoluzioni teoriche del tempo direi che possiamo passare ai saluti ciao da augusto e da mauro casadei ricordatevi di sottoscrivere i nostri canali social che sono facebook instagram e youtube grazie a tutti